Allora, se volete fare tutte belle le vacanze per sentirvi meglio le persone andate alle temme sassamenteria Ma che cari temme sassamenteria Molto belle Sì, bellissime Dove potete andare con 35.000 lire Ma che 35.000 lire Con le cose molto belle perché euro non se ne prendono Ma chi è che non se ne prende gli euro? Ma sta scherzando Con tanti punti molto interessanti Il primo punto che c'è scritto nel foglietto Sì, lo sentiamo Che c'è il primo è se tu vai là e ti senti bello Ti fanno il massaggio orientale Wow, però, questo è bello, dai Sì, perché ci sono i cinesi che passano sempre davanti e fanno i messaggi E vede il messaggio orientale No, ma non il mixaggio, quello col mixer Che c'è, il massaggio Poi, tu e c'è in omaggio anche la maschera alla rossa Maschera alla rossa, quello che si fa in faccia Per voi donne è perfetto E viene la signora rossa vestuta di carnevale con la maschera e fa la maschera Vabbè, ma è una merda sto posto Poi c'è questa cosa che non ho capito che cos'è Mifesologia bandare Cosa? Mifesologia brandare Mifesologia, ma che è da mifesologia? Non lo so, è una cosa importante nuova di questa teme sassamenteria Terme sassamenteria Ma non c'entra Cioè, o solo l'eterno e la sassamenteria Cioè, che ci azzeccano le tue cose, non l'ho capito Scusate, mi è venuta la tosse Sì, vabbè, la tosse, ok Poi c'è un'altra cosa importante Che il regalo, c'è l'idromassaggio al bouquet dei fiori Al bouquet dei fiori, sì L'idromassaggio al bouquet dei fiori Sì, perché praticamente ci fa Che se ne vanno a prendere Dove prendono le bouquet delle spose Le fiori le mettono Dove ci sono tutte le mattonine Le cose, le fondanelle E loro le vanno a prendere Prendono i bouquet e ce lo strigono In persona addosso Ma che glielo strigano? Strofinano per chi Ascolta da fuori Glielo strigano Vabbè, quello che è Ma nella, com'era? Cos'era la vasca? La teme sassamenteria Andateci tutti quanti, tutti Dove andate? Alle teme sassamenteria Ma quanto costa? 35.000 lire? 35.000 lire? Al giorno Euro non se ne prendono Anche là non se ne prendono euro E poi c'è una cosa molto bella Vediamo La doccia Evia La doccia Evia Che è il cantante? Evian Ah, Evian Ah, la doccia Evian Poi se che io sono TG Bravo Che fanno il provino Sì, vabbè, ci stiamo a perdere Il provino è straordinario Perché non me lo chiedete Che cos'è la doccia Evia E appunto E che cos'è la doccia Evia? Non lo so La gente la mettono là Sotto la bomba Di plastica Ci bionono le acque di addosso E poi ci fanno la doccia E poi tutti quanti Eeeh E si diventano con l'animazione Benissimo Perfetto Va bene E poi Sì, super l'ultima cosa Non si dicono le malapalorie Dai, andiamo avanti Allora, poi c'è il fango aromatico Il fango aromatico Sì, molto bello Aroma di che aroma è? Aromatico Perché Che cosa succede? Allora, l'accento è che aspettano che piove Dopo che piove Se ne vanno nella terra E ci fa il fango La gente si arrotola nel fango E poi ogni tanto c'è Quello dell'animazione Che ci fa Eeeh Profumatemi Anamale Profumatemi Si profumano Perché è di terra La terra quella là Però questa è la famosa Temme Sossamenteria Per tutte le vostre Cose per riposare Del lavoro Per le vacanze Delle rapine Quali cose Le temme della sossamenteria Vabbè, ma non c'è Per le vacanze In generale Uno va Via Sgaggiavotte Sessantanove Più due Sessantanuno Perché c'hanno due Increase Sessantanove E sessantanuno Quindi uno fa Sessantanove Uno si fa L'ambra pneumatica Che è Più due Sessantuno Ma ma Non si è capito Quello che ha detto Vabbè Allora Se volete fare La vostra vacanza Molto bella Vi vantate Delle temme Sossamenteria Che se non ci smetterebbe Fare una bella vacanza Sì, va bene Va bene Immagino In questo momento Perché Scusate un attimo Che devo rispondere Citofono 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 Citofono